Ciao Fabrizio, come stai? Tutto bene. Cosa fa? Cosa hai in mano lì? Ho un macchiere di Trebbiano 2016, sto vedendo come procedono i nostri nuovi vini. Trebbiano 2016. Fabrizio, dimmi un po' la storia di Priore e la storia familiare, no? Sì, è un'azienda di famiglia. Mio padre ha iniziato questa attività nel 1968. 68, so it starts in 68. Viandando le prime viti e coltivandole a tendone fino agli anni 2005. So they were all planted in tendone, high until 2005, and then were planted with spagliere. Nel 2005 abbiamo sostituito le spagliere sotto la mia... So then they were planted the rose. In fact Fabrizio was explaining to me just now that they've been following, trying to get some of the energy out of the soil because of all the fertilizing that went on in the old days, to get the vines back into balance. E questo ci ha permesso di migliorare la produzione dei nostri vini e di soprattutto ottenere prodotti più moderni e più interessanti. And this has enabled them to improve the quality of their wines and to make them much more contemporary. Chiaramente siamo nelle colline pescaresi, siamo nelle prime colline vicine al mare. Quanti chilometri del mare? Sono 15 chilometri. 15 chilometri dal mare. Quindi siamo in pieno territorio del Montepulciano d'Abruzzo. So we're right in the heart of Montepulciano d'Abruzzo, but also they make some whites, anche a bianchi. Però anche, ci difendiamo molto bene anche sulle nostre varietà autoctone bianche. che ci sono quelle bianche.